Per divulgare la danza, sia come disciplina artistica che come attività di grande aggregazione e divertimento, Scuola di Danza Iconos, della maestra Giussi Miceli. Iconos, in linea con i più avanzati centri di danza da oltre 20 anni nel panorama siracusano, è stata in grado di consentire attraverso un'adeguata articolazione di corsi orari una quotidiana pratica di studio di danza per bambini e adulti. I corsi si svolgono in una spaziosa struttura di prestigio, con un collaudato team di insegnanti tutti qualificati e spaziano dalla tecnica classica alla moderna, jazz, flamenco, video dance, girling, hip hop, danze orientali e danza gioco dai tre anni, suddivisi per età e grado di preparazione. Scuola di Danza Iconos, della maestra Giussi Miceli, via Grotta Santa 255 Siracusa. Scuola di Danza Iconos, per emozionarti ed emozionare. Scuola di Danza Iconos, per emozionare. Scuola di Danza Iconos, per emozionare. Scuola di Danza Iconos, per emozionare.